La Guaglia di Finanza di Pistoia ha eseguito nei vivai vannucci di Piuvica il sequestro di 7 immobili del valore che supera 530.000 euro. Sequestro effettuato su richiesta del Procuratore della Repubblica Paolo Canessa e del sostituto Fabio Di Vizio e su disposizione del giudice per le indagini preliminari Alessandro Buzegoli. L'indagine è per il reato di infedele dichiarazione dei redditi per gli anni 2011 e 2012. L'attività ha riferito la Procura si inserisce in una più ampia indagine che vede le fiamme gialle pistoiesi impegnate in accertamenti sul regime fiscale. Attività svolte complessivamente nei confronti di 25 imprenditori tra i quali alcuni produttori del verde di livello internazionale. A riguardo la Procura ha riferito che in molti casi...